Musica 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 Lunedì 18 maggio riapriranno negozi, barre, ristoranti, parrocchiari e centri estetici consentiti tutti gli spostamenti entro i confini regionali. Crisi da coronavirus a Prato sono oltre 8.000 lavoratori coinvolti dalla sola cassa integrazione in deroga. Domani Grignano celebra senza popolo la festa quinquennale del crocifisso e TV Prato seguirà la diretta. Il Santo Stefano è pronto per la fase 2 e riaprono alcuni reparti l'attività chirurgica programmata. Una buona giornata dalla nostra redazione e bentrovati a nuovo appuntamento con informazioni di TV Prato. Lunedì 18 maggio riapriranno i negozi, bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. Il presidente della regione toscana Enrico Rossi si allinea infatti alle decisioni del governo e sempre da lunedì cadono le limitazioni agli spostamenti all'interno dei confini regionali. Sarà un riapertura day il lunedì 18 maggio. Negozi, bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri, dopo oltre due mesi di chiusura, potranno ricominciare a lavorare rispettando le precauzioni anticontagio coronavirus. Il decreto legge varato nella notte dal governo estende le riaperture all'intero territorio nazionale, lasciando alle regioni la definizione dei protocolli, che dovranno comunque conformarsi alle linee guida nazionali che faranno testo in assenza di diverse indicazioni regionali. Nel decreto legge, il governo ha lasciato alle regioni la possibilità di introdurre deroghe rispetto alle decisioni statali, sia in termini restrittivi che ampliativi, in base al monitoraggio della situazione epidemiologica sul territorio. Di fronte alla svolta impressa dal governo, il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha cambiato il proprio orientamento. Fino ieri, contrario al riapertura day, Rossi, con un post su Facebook, ha preannunciato che si allineerà alle decisioni del governo per non penalizzare la Toscana. Il decreto legge prevede anche sanzioni. Gli imprenditori, che non assicureranno adeguati livelli di protezione e violeranno i protocolli anticontagio, rischiano la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, oltre alla multa da 400 a 3.000 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Il decreto legge di stanotte del governo ha inoltre ampliato gli spostamenti delle persone. A partire dal lunedì 18 maggio ci si potrà muovere all'interno della stessa regione senza dare alcuna giustificazione. Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova e anche da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. A partire dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse, da e per l'estero, potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, secondo criteri adeguati al rischio epidemiologico dei vari territori o paesi. Cassa integrazione inderoga per l'emergenza Covid, a Prato interessati oltre 8 mila lavoratori. Sono 37 mila 522 le domande di cassa integrazione inderoga inviate alla regione dalle imprese toscane in difficoltà per l'emergenza epidemiologica. I lavoratori coinvolti sono in tutto 96 mila 325. Sul territorio regionale il maggior numero di domande si registra a Firenze e provincia con il 27% del totale. I lavoratori coinvolti sono per il 60% donne. Anche per il numero di lavoratori, Firenze è in assoluto il territorio maggiormente interessato. Si concentra qui il 28% del totale regionale. Il numero medio dei giorni richiesti per lavoratore è stato a poco più di 27 giornate full time. Quanti a settori produttivi, le domande fin qui inviate dalle aziende, provengono per il 30% dal settore del commercio all'ingrossa e al dettaglio, per circa il 27% delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, l'11% per le attività professionali. I lavoratori interessati alla richiesta di cassa integrazione in deroga per oltre la metà hanno la qualifica di operaio, mentre il 38% sono impiegati e solo lo 0,3% riguarda i quadri. Andando nel dettaglio pratese sono 2.886 le domande inoltrate, 8.162 i lavoratori interessati. A partire dal 31 marzo è stata resa disponibile dalla regione una piattaforma online per l'invio delle domande che ha fatto registrare, in particolare nelle prime due settimane, forti picchi di richieste. Molti lavoratori sono ancora in attesa del pagamento, a causa dei tempi tecnici necessari all'Inps per completare la procedura di liquidazione che dovrebbe comunque avvenire entro il mese di maggio. Grignano celebra la festa quinquennale del crocifisso, solitamente il culmine dei festeggiamenti, avviene la terza domenica del mese di maggio e così la ricorrenza in programma per domani, domenica 17 maggio. In questo inedito 2020, segnato dal coronavirus, non si terrà la tradizionale processione e non sarà prevista la partecipazione del popolo. Ce ne parla Lucrezia Sandri, in collegamento per noi dalla parrocchia di San Pietro a Grignano. A te la linea. Buongiorno e grazie della linea mi trovo alla Chiesa Antica a Grignano perché siamo alla vigilia della solennità della festa quinquennale del Santissimo Crocifisso di Grignano e mi trovo proprio in compagnia del parroco Don Alessio Santini. Quest'anno si è deciso di celebrare comunque questa solennità che ricordo cade ogni cinque anni, come dice il nome, e la terza domenica del mese di maggio, nonostante le chiusure, nonostante ci sia questa coincidenza sfortunata per cui ancora le messe siano precluse al popolo. Abbiamo deciso di celebrare la solennità del Santissimo Crocifisso proprio in questa circostanza perché questa festa potesse ridarci anche coraggio, speranza e il giusto passo per ripartire così, secondo la logica anche cristiana, secondo la logica del Vangelo. La festa quinquennale viene celebrata qui a Grignano dal 1895 quando nelle circostanze di un terremoto i grignanesi si sentirono come protetti e allora decisero di celebrare ogni cinque anni questa festa nella quale è il crocifisso che viene messo al centro anche se poi in realtà il crocifisso ha questa dimensione così quotidiana. I grignanesi ricorrono al crocifisso tutte le volte che hanno una necessità. Però ecco, ogni cinque anni è come un modo per rimettere al centro la croce e quindi anche il messaggio del Vangelo, il mistero pasquale, il mistero della nostra salvezza in definitiva. Il Santissimo Crocifisso è qui alle nostre spalle, lo vedete, nel tempo come ha detto Don Alessio ha protetto i grignanesi da epidemie e terremoti e quindi veramente speriamo che ci dia questa forza. Però noi abbiamo qui anche delle grignanesi doc per così dire. Lei signora ci può raccontare la sua esperienza perché poco prima di questo collegamento mi ha raccontato durante i mesi di chiusura quando potevo passare qua davanti per motivi di necessità ovviamente, quindi uscite autorizzate, facevo sempre una preghiera davanti al crocifisso. Certo, sì. Il crocifisso di Grignano per la mia famiglia e come quasi tutti i grignanesi anche per le altre persone è un punto di riferimento. Quindi io tutte le volte che passo e anche sono passata appunto nel periodo forzato della quarantena ho sempre acceso un lumino, mi sono sempre raccomandata come faccio sempre tutto il mondo, tutta l'umanità sofferente, tutta la nostra parrocchia, tutti i nostri cari, tutte le persone, convinta che il crocifisso ci ascolta. Anche lei signora in questi anni ha potuto raccomandarsi al crocifisso? Negli eventi quelli belli e quelli più brutti noi ci siamo sempre raccomandati al crocifisso, siamo sempre venuti, la nostra famiglia, insomma da generazione, siamo sempre stati devoti anche le famiglie vecchie grignanesi e anche tutti quelli che poi sono tornati sono tutti attaccati molto, ci tengono veramente, sì. E allora grazie davvero, grazie a don Alessio Santini, io vi ricordo la celebrazione domani della festa quinquennale ovviamente per le misure di contenimento ancora in atto per l'epidemia sono precluse al popolo ma ci penserà TV Prato a farvela seguire grazie ad una diretta che comincia alle 17.15 con la rescita dei Vespri per poi seguire con la messa alle 18 presieduta da Monsignor Giovanni Nerbini. Con questo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Lucrezia. Coronavirus e il Santo Stefano è pronto per la fase 2 e riaprono alcuni reparti. Vi allibera anche ad una parte dell'attività chirurgica programmata. Dopo il picco epidemico, l'ospedale Santo Stefano è pronto per affrontare la fase 2 dell'emergenza con una nuova organizzazione. La riduzione progressiva dei ricoveri di pazienti affetti da coronavirus e il crescente incremento degli accessi no-Covid consente oggi di riconvertire aree dell'ospedale pur mantenendo una struttura flessibile e pronta a rispondere ad eventuali nuove ondate di contagi. Guardando ai posti letto, restano attualmente disponibili 126 spazi per pazienti sospetti o positivi a fronte degli oltre 250 attivati nella fase 1. In dettaglio rimangono utilizzabili 22 letti in area medica, 10 in malattie infettive, 20 posti di terapia intensiva, 44 nella palazzina del vecchio ospedale e 30 nella struttura La Melagrana di Narnali. Altri settori possono essere subito attivati a seconda delle esigenze. Tornano ad essere riaperti così molti dei reparti che erano stati riorganizzati per gestire i casi Covid e riprende anche una parte dell'attività chirurgica programmata sospesa durante l'emergenza. Continua invece ad essere garantita l'attività chirurgica per urgenze, per interventi oncologici e di traumatologia. Per quanto riguarda il pronto soccorso, restano attivi i percorsi strutturati e distinti, sia di accesso che di presa in carico, per i casi sospetti Covid. E lo stesso vale per i servizi di radiologia e medicina nucleare. All'interno del pronto soccorso, la sala di attesa è riorganizzata con postazioni numerate, l'accesso sarà consentito soltanto ai pazienti in attesa di visite. Sul fronte dell'attività ambulatoriale, in graduale ripresa da segnalare sono la riorganizzazione per l'area del poliambulatorio, con l'obiettivo di dare spazio ai day service e al fast track, e l'ottimizzazione dei percorsi anche al centro Giovannini e negli altri presidi territoriali. Per concludere, restano operativi i percorsi per le donne in gravidanza, i neonati e i bambini positivi al Covid, mentre il pronto soccorso pediatrico è stato separato dal resto, con spazi e tecnologie dedicate. E passiamo adesso alla cronaca. Tre arresti in 24 ore dai carabinieri di Prato. In manette sono finiti uno spacciatore, due pregiudicati che non hanno rispettato le misure cautelari a cui erano sottoposti. Il PUSH rarrestato è un giovane nigeriano senza fissa dimora, che è stato sorpreso in Viale Vittorio Veneto, dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un acquirente pratese. Entrambi sono stati multati anche per non aver rispettato le restrizioni agli spostamenti. Le altre due persone arrestate sono due pregiudicati italiani, un 32enne inadempiente all'obbligo di dimora nel comune di Livorno per furto aggravato, e un 35enne che non ha rispettato il divieto di dimora nella provincia di Prato. Il grido d'allarme di un'agenzia di viaggi. Da tre mesi lavoriamo soltanto per cancellare le prenotazioni, ma per il governo siamo dei fantasmi. Sentiamo. Siamo stati completamente dimenticati. Il nostro codice a teco non compariva nell'elenco delle chiusure e non viene citato nemmeno in quello delle aperture. A lanciare un grido d'allarme è Claudia Chiti, titolare dell'agenzia Sotto la Palma, sottolineando che in cinque mesi il Covid le ha portato via l'80% del fatturato. Ancora non ha ricevuto sostegni da parte dello Stato e dalla Regione, ma i costi fissi non sono stati bloccati e guardare al domani senza avere risposte non è semplice. Quando c'è stato il famoso lockdown, il nostro codice a teco non compariva neanche durante quella fase lì. Tant'è che due giorni dopo abbiamo scoperto che le agenzie di viaggio, se poste su strada, erano preparabili al commercio e quindi dovevamo chiudere, benché noi avessimo già chiuso per etica professionale. Lo stesso discorso lo ritroviamo adesso nelle aperture, perché si parla di riaprire bar, ristoranti, parrucchieri, ma non agenzie di viaggio. Quindi noi non sappiamo neanche quando dovremo riaprire. Noi perché vogliamo riaprire? Perché vogliamo passare un messaggio ai nostri clienti, che è quello che noi ci siamo, siamo qui, e vi tuteliamo. Siccome noi vendiamo un prodotto che è effimero, se te trovi il bandone chiuso, tu prenoteresti un viaggio da me, sapendo che io ho il bandone giù? Non credo. Quindi se abbiamo una minima possibilità di lavorare, è riaprendo. Vorrei anche che la Regione si muovesse da un punto di vista di finanziamenti a fondo perduto. Io ho una spesa indicativa di 5.000 euro al mese, a fronte di zero. Tanto per mettere la ciliegina sulla torta non ho ricevuto nessun aiuto. Cassa integrazione? Niente. Bonus? Niente. Finanziamento di 25.000 euro? Niente. Vogliamo che ci siano risposte per agenzie di viaggio e tour operator. Vogliamo riaprire, vogliamo lavorare, vogliamo gli aiuti che siano erogati, finanziamenti a fondo perduto, tutti gli aiuti possibili per metterci in condizione di andare avanti. Claudia Chiti ha passato il lockdown ad annulare prenotazioni già ricevute, una settantina circa, e a cercare di dare risposte ai clienti. Ma in tutta questa situazione un barlume di speranza c'è. Tre clienti hanno infatti già prenotato le ferie estive. Il barlume di speranza c'è e colgo l'occasione per ringraziare i nostri clienti che sono veramente una potenza. C'è stato qualche impavido che ha prenotato, abbiamo prenotato un pacchettino per Lampedusa, abbiamo prenotato una Sicilia, abbiamo prenotato una Sardegna. È per questo che dico che io voglio riaprire, perché queste persone si meritano di vedermi in faccia, si meritano una consegna di documenti di viaggio in mano, si meritano che tutte le pratiche che stanno lì dentro siano consegnate a mano, perché noi ci siamo. E questa era l'ultima notizia, il telegiornale termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20.30. Vi ricordiamo inoltre alle 17.30 in diretta dal Duomo trasmetteremo la recita del Rosario e a seguire la celebrazione della Messa. Grazie per averci seguito e arrivederci!